Manca ancora l'ufficialità, non la certezza. Il Molfetta giocherà nella prossima stagione in serie di campionato che ritrova a distanza di un quarto di secolo dall'ultimo precedente. Un altro segnale inconfutabile è arrivato mercoledì dal Consiglio federale che ha deliberato lo stop definitivo di tutta l'attività dilettantistica, compresa naturalmente l'eccellenza pugliese. Si sta procedendo lentamente a quello che probabilmente succederà ma che credo meritiamo ampiamente. Bisogna attendere ancora perché poi comunque l'ufficialità è sempre necessaria chiaramente, però siamo davvero molto vicini. Fissato per venerdì di questa settimana un incontro tra i vertici della Lega Nazionale di Lettanti verranno stabilite di fatto le linee guida su promozioni e retrocessioni che il presidente Cosimo Sibiglia porterà successivamente all'attenzione del prossimo Consiglio federale in programma molto probabilmente nella prima decada di giugno. Sul salto di categoria del Molfetta in ogni caso non ci sono più dubbi. I biancorossi di Renato Bartoli hanno vinto l'eccellenza totalizzando in 25 partite sulle 30 inizialmente in scaletta, ben 60 punti, 6 in più del corato. Il direttore generale, Saberio Bufi, sceglie le due vittorie più significative. Il derby coltrani e la vittoria San Pietro in Lama contro il Deghi. Il derby coltrani perché è stata probabilmente la prima partita nel quale abbiamo avuto la consapevolezza di potercela fare, dove il pubblico è stato veramente importante, è stata l'arma vincente, dove abbiamo dato dimostrazione di essere veramente forti. San Pietro in Lama invece dove abbiamo dimostrato di essere forse di testa, dove 2-0 a 20 minuti dalla fine abbiamo ribaltato e abbiamo veramente voluto vincere fino alla fine e l'abbiamo fatto all'ultimo secondo. Facile immaginare per la prossima Serie D la conferma in panchina di Renato Bartoli. Non abbiamo davvero parlato della prossima stagione, però l'intesa che c'è con lo staff tecnico, ma anche con lo staff organizzativo, ma anche con tantissimi dei giocatori che comunque quest'anno hanno fatto con noi il campionato, è davvero forte. Quindi non posso dire che i giocatori o lo staff tecnico saranno riconfermati perché non è ancora ufficiale, però sicuramente posso dire che c'è un'intesa veramente di massima che probabilmente ci porterà a continuare insieme.